Musica Let's go baby L'ultima volta che dovevamo fare un fuck time Ho fuckato tutto E mamma mia che giometti di parole ragazzi Sono un genio L'ultima volta che dovevamo fare un fuck time Ho fuckato tutto Non l'abbiamo fatto perchè me ne sono dimenticato Perchè ci sono stati dei problemi Alcuni commenti non so perchè sono spariti Di quelli che avevo visto che erano più voti Quindi sono andato avanti ho fatto altre cose Mi sono occupato di fare altre cose sono partito Sono andato in Francia eccetera eccetera Quindi questa volta cazzo lo facciamo E facciamo il fuck time più bello di tutti i tempi Dove prenderò sì Le domande ovviamente quelle più votate da voi Quindi mi raccomando date qui sotto Guardatevi i commenti dopo un po' di giorni Perchè magari trovate qualcosa di bello e così via In più Voglio anche scegliere io dei commenti Magari qualcosa di interessante Vi do degli indizi Mi potrete chiedere Magari quando andrai in Francia Ti sei già preparato la casa Che cosa farai là Continuerai a fare Youtube Farei streaming Perchè non tratti code Che ne so Perchè farai Overwatch Tratterai altri giochi Tratterai giochi single player Ti piace questo gioco L'hai visto Cosa ne pensi di questo Cosa ne pensi di quest'altro Cosa ne pensi della Pro League Sacco di cose Potete chiedere Quello che volete io vi risponderò Ci possiamo divertire con una chiacchierata Magari vedrò di farla così In live Mentre parliamo Magari con una facecam Su un gioco O magari la facciamo così Come vlog Non lo so ancora Quindi scusate ragazzi Per quel fact time Mi sento un coglione Cioè mi potete chiedere di tutto Tornare su Destiny Tornare su The Division Perchè è mollato The Division Perchè è mollato Cioè cazzo male Me lo sto facendo da solo Il fact time Comunque sono un sacco di cose Che potete chiedermi Mi potete chiedere perfino Se ho imparato a cucinare Qualcosa di buono Oltre le mie 10 ricette Che conosco Però almeno con 10 ricette Riesco a camparci una settimana E Niente Quindi sbizzarritevi Chiedete quello che volete Fatemi divertire pure a me Facciamo un bel fact time Cioè chiedetemi qualcosa Magari potrete prendere spunto Per fare un video Perchè per esempio Prima di andare via Magari Vorrei farvi di vedere La mia postazione da gaming Magari gli do una pulita Perchè Come avete visto Ho dato un po' di cavi Un po' di schifezze Quindi meglio che gli do una pulita Prima di fare questo video E niente Beh ragazzi Fate voi Scegliete voi Fatemi divertire Voglio che vi divertiate Anche voi con questo fact time Quindi spolliciatelo Lasciate un like In modo che chi è iscritto al canale Lo possa vedere nelle feed Perchè ho scoperto Che Più like mettete Quando si arriva A un certo numero di like Che supera la media del canale Quel video Viene mandato Ad alcune persone Che seguono youtube O comunque seguono il canale Ogni tanto Quindi nelle feed Più persone lo vedono Quindi vediamo Voglio proprio divertirmi Con le domande Voglio vedere se magari Qualcuno tira fuori qualcosa di divertente E sarebbe bello Vedervi sotto Con domande particolari Strane Eccetera eccetera Io vi saluto Let's go baby Black Oats Eccetera 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 Eccetera